Nel 1946 lei ha scritto l'inferno e il limbo, maestro, Dante, l'universo dantesco, sono stati importanti per lei? Importanti per me come credo per tutta l'umanità in sostanza, ma in questo particolare momento della nostra storia letteraria e della nostra storia nazionale, Dante ha acquistato un'attualità ancora più forte e direi che il sapore di questo nuovo dantismo, se vogliamo chiamarlo così, sta tutto qui, che Dante prima era un nome al di sopra, in fondo delle parti, era una presenza mitologica e poi invece è diventato un maestro, operativo proprio, anche per il suo linguaggio e per la sua dottrina del linguaggio.